... Thelma! Resto il telefono. Non l'avevo sentito. Rispondi. No. Avanti. No, no, la signorina stacca il telefono di notte. Sì, certo, dottore. Posso andare a vedere. Vi chiamerò. Sta venendo qui. Quando ti ho chiamato, sei sicura che Sidney non fosse al tema? Non perdiamo tempo. Ecco, ha acceso la luce. Una cosa terribile, hai detto. È sufficiente che abbia udito questa frase. Non perdiamo tempo. 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 Grazie.